Ci troviamo tra strada della Fornace Vecchia e strada dei Pioppi, carreggiate che come potete vedere alle mie spalle corrono parallela all'autostrada A14 che si trova proprio qui. Ci troviamo infatti precisamente a un centinaio di metri dal casello autostradale di Pesaro. E ci troviamo in questo luogo per rispondere alla segnalazione di una nostra telespettatrice di nome Anna Rita, telespettatrice che ci mostra come sotto questo ponte, che diventa un sottopassaggio all'autostrada, si è diventato un incivile consuetudine gettare rifiuti che si ammucchiano ormai a intervalli regolari. Chi ci ha segnalato questo stato di degrado in passato ha infatti già sporto denuncia per abbandono di rifiuti alla Polizia Municipale. Polizia che ha poi allertato gli operatori ecologici per la rimozione. Ma il fenomeno, come possiamo constatare, continua a ripetersi. L'immondizia continua nuovamente ad accumularsi e si va dagli scarti di lavorazione a rifiuti insacchettati e scaricati in questo punto che è distante da zone residenziali ma che è spesso transitato da cittadini che passano in bicicletta o portano a spasso il cane. Un fenomeno sicuramente incivile, ingiustificabile ma anche di difficile spiegazione perché non si comprende per quale ragione questi rifiuti non vengano correttamente smaltiti nei tanti cassonetti presenti nella nostra città.